buongiorno ho sbagliato una cosa dunque buongiorno a tutti ragazzi bentornati in live devo modificare il follower della giornata perché perché signori abbiamo l'obiettivo oggi è ragazzi raggiungiamo i mille follower siamo a 954 quindi ne mancano veramente pochi nuovo follower da dove parlarne ecco qua grazie di follow a grazie di follow a suezzi makappa mi è venuto sul canale grazie mille quindi ragazzi abbiamo 955 follower mettiamo il goal di 45 e facciamo scadere 0 0 8 giorno 25 20 21 iniziamo l'obiettivo ragazzi abbiamo l'obiettivo da raggiungere di 45 follower per raggiungere i 45 follower per raggiungere mille ragazzi pronti questo momento in via parte il goal da raggiungere di 45 follower per arrivare a mille buongiorno davide buongiorno è un problema se mi fai la vuole te alitrack tu mettiti in attesa e io se disposto casualmente te la faccio anche esso solitamente però cerco di non fare le guate di sa chi mi segue perché è più avvantaggiato è più avvantaggiato a farle quindi solitamente cerco di non farle anthony f vediamo un po io ci auguro di rimandare per il background così facciamo spaventiamo un po la coda suezzi perché quello è in attesa white lista ciao ciao sono in live sono in live è un problema mi raccomando utilizzare parole console e politica di twitch perfetto allora io ho visto che sono rimanato 24 ore per il per il regolamento si sono passati queste 24 ore un'ora va si bene allora parla di un po le tante però con me allora andiamo solo e a ritrack fai vinta che non ti seguo ma poi vediamo allora ma che sono in live quindi intanto mi muterò non ti preoccupare allora mi raccomando è un colloquio ok non è un'interrogazione non è un'interrogazione da scuola ok quindi sei tranquillo è tutto mi raccomando dare le risposte al breve tempo possibile altrimenti te le devo annullare non rispondermi non rispondermi facendomi delle domande perché sennò non ha senso perché colloquio le domande te le faccio io e niente sei tranquillo che al massimo se ti rimando lo fai domani non è che non lo fai mai più quindi se non è oggi è domani o dopo domani quindi iniziamo pure a spiegarmi il tuo background e poi vediamo il mio background non riesco di mangiare un giorno yogurt quindi si intanto spiegami un po il tuo background non lo ricordo scusami perché sono in tante città scusami aspetta che vedo qual era allora ah sì che sono nato nella famiglia di contadini ciao banana sprit e sono in questa contadini sono poveri e e quindi non ho potuto frequentare molto le scuole se mi hai riabbiato il pronostico vai ehm avevo un carattere diciamo tenero dolce e simpatico ero molto allegro però ero molto frustato dalla decisione di mio padre che ehm aspetta qual era come fare server voglio fare sinceramente non lo so vorrei prima vedere il mio percorso ne vedi l'obiettivo però sai certo certamente l'obiettivo è è un mio obiettivo di diventare un criminale il criminale far parte di una gang e pian pian crescere istruttore non lo so non ho idea cerchi server no white list questo è il mio obiettivo principale è moon city però non si sa mai cosa succede nel percorso ti conviene rimandarlo al itrack ti conviene rimandarlo vabbè le definizioni di rdm vdm e definizioni è che quando rdm è quando picchi una persona totalmente a caso senza un valido motivo rp e vdm quando è tipo investi una persona senza senza un valido rp tipo ci sono le persone che stanno parlando tu gli vai a caso con la macchina addosso e li investi oppure li uccidi investendoli ok e definizione di metagame definizione in senso esempio oppure te lo spiego come ti chiedo definizione e forza definizione di power game hai detto di metagame a metagame è quando utilizzi delle informazioni fuori rp e tipo su altri tipo che ne so su discord su su twitch su cosa su whatsapp ok e le usi in game in rp usi quelle informazioni fuori dal rp fuori dal game e le usi nel game appunto ok mi fai cinque esempi di metagame cinque esempi di metagame sì allora cinque esempi di metagame il primo è tipo riconoscere le persone mascherate dai vestiti secondo riconoscere persone mascherate dalla voce il terzo magari è riconoscere un veicolo fazione senza esserci scritto nulla e senza che c'è scritto se appartiene a quella fazione dimmi black dimmi pure riconoscere tipo una mafia dai vestiti prendere informazioni il primo follower per arrivare a mille follower ragazzi siamo a meno 44 per arrivare a mille follower ok definizione di power game definizione allora scusate che mi confondo definizione di power game è in rp o fuori ah i c e in character si abusano di o c e o out of character quindi fuori di meccaniche di gioco Matteo Mattei due Teo grazie per il follow benvenuto sul canale si effettua un'azione inverosimile voglio dire irrealistiche è tipo che ne so spiega meglio spiega meglio spiega meglio ti posso fare un esempio per favore no no spiegati meglio la definizione per favore ti abusano di meccaniche per compiere azioni non vere tipo ok ci può restare dai posso fare degli esempi se vuoi si fammi cinque esempi di power game c'hai cinque esempi allora tipo uno portare due armi a canna lunga montate prima poi seconda anche portare un'arma a canna lunga montata senza un borsone tipo va bene lo calcolo come uno solo esempio questi due va bene va bene portare troppo cibo nelle tasche ok tipo il no fear sensazioni illegali eh e tipo senza paura sensazioni illegali che tipo non hai paura sensazioni illegali oppure andare in contromano troppo veloce non è power non è non è power game questa roba come non è power game cioè in realtà sono cose di no fear questi ah si siamo due esempi correre su tipo correre sul bordo di un palazzo altissimo questo è sempre no fear si ma scusami un attimo ma ma sai che significa no fear e power game sai la differenza si e perché mi stai facendo degli esempi sbagliati scusami perché tipo che sono quasi simili diciamo hai capito ma non ci siamo è sbagliatissima sta cosa scusami scusami power game da no fear è molto differente tipo power game è anche andare sopra lo sterrato con una macchina da sport e da rally ok questo è giusto mettiamo per esempio poi per forza 5 devo dire capa tosta di scrivermi in privato io non mando gli altri in giro il link di discord quindi vi chiederà il tuo sergente di chiedere a me di scrivermi portare anche tanti soldi in tasca tipo che ne so portare un milione in tasca ok ok Anthony c'è un po' un problema fare 5 esempi generali di power game siamo messi valuccio cioè io sono cioè confronto ad altri staffer sono molto più flessibile ovvero dico fammi 5 esempi generici di power game ci sono staffer che chiedono 5 esempi di power game mettendo anche tipo senza contarmi quello quello quell'altro cioè quindi che hai delle restrizioni incredibili io cioè se non mi stai fare degli esempi di power game mi vedo già dura la white list è avverto andami tu vuoi andare avanti? sì va bene potresti andare avanti inutilmente però sappilo vabbè magari ci riprendiamo definizione di no fear allora definizione di no fear è quando tipo vengono effettuate azioni forzate è il è il personaggio tipo il pg non ha paura tipo che non lo so gli puntano una pistola addosso ripeti la capola la definizione è fuori che tipo al personaggio gli puntano due persone oppure anche una persona sola è un esempio una pistola addosso si ha la definizione è la definizione ti ho chiesto quando vengono effettuate azioni forzate e la persona in questione non ha paura per questo per me quella è no fear non trovo altre la definizione di un fear è non simulare la paura in situazioni di pericolo o dove dover simulare la paura capito si è che non mi sa spiegare lo so però devi spiegare se cosa poi ti faccio gli esempi si fammi 5 esempi di no fear 5 esempi di no fear è quello allora quello andare contro mano troppo veloce il primo quello che ti ho detto prima buttarsi da un posto altissimo quando appunto ti puntano la pistola non effettui la simulazione di paura quando sei in un veicolo ti puntano e ti metti a scappare senza alcun senso essendo fier pure e poi quando fai scena muta in una interrogazione pure antoni non ci siamo gli esempi tu non li si puoi fare stai avendo un sacco di difficoltà negli esempi io ti devo rimandare ti rimando anche di 4 ore però tu devi sistemarti con gli esempi mi dispiace va bene ti ringrazio allora ciao 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 e niente raga non non sopeva dargli esempi mi dispiace però purtroppo non sopeva fare esempi scare vediamo un po' tochi whitelist 1 donna wilson hmm 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 E' andato via L'hanno spostato già Eh vabbè Valerio A background troppo corto L'ho sposto Ciao Ciao scusami Fai ti me l'ho spostato io E' sparito da me E poi va lei Ciao e volevo dirti che il background è troppo corto Dovresti ampliare un po' ok A posto Allora dopo ciao Sordo Uè ciao Totò E' lo spammer ufficiale Totò è già E' lo spammer ufficiale della chat Totò spammer ufficiale Ciao Franci Ciao T'avevo già saluto prima Non l'ho mai sentito Scusami Mamma mia Mamma mia Tutto Tutto la mia Farci si è troppo 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 Permaloso E a me E' la fastidio No scusa Ok Ti ho salutato anche prima E non l'hai sentito Quindi non ci posso fare nulla Allora Grazie per il follow Anthony F Grazie per il follow Benvenuto Grazie Grazie per il follow Igna 045 Benvenuto Non è andato Esistenza Adesso ci spostiamo qualcuno appena arriva Però sperando che nessuno ce lo rubi E tu guida l'elicottero Io ti licenzio Che è scritto Franci Mamma mia E chi è in scuola Ragazzi Buongiorno Buongiorno Tutto bene Franci Che ha scritto Che t'ha mannata Il bot E te l'ha cancellato Tutto bene Ekin Tutto bene Tutto bene Tutto bene meglio che sto calmo ho detto eh mi sa proprio anche a me che è meglio che stavi calmo perché se perdevi la pazienza la vedevo brutta vediamo un po' questo ragazzone qua che è arrivato boh ok non è stato rimandato background c'è ma com'è messo il ground se mutiamo la live la spostiamo ciao buongiorno ciao mi senti? mi senti? gamma? gamma mi senti? gamma? gamma 56 mi senti? mandato un'ora per fk in ul più quiz dalla ul ok perfetto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono loro due, gli unici responsabili che possono accettare Le guardie di sti gruppo Ma sì, alla fine mi sono divertito con quell'elicotter E poi a me ti farò saltare tutte le operazioni Non una Ti farò saltare tutte le operazioni in una ma tutte Sì sì, perfetto Pabllo0922, grazie per il follow, benvenuto Ti ho scritto a capo tosto, vediamo cosa dice Perfetto, ok Andate vedete che appena mi spostate nella UL mi farete solo domande di regolamento illegale Dipende, dipende dallo staffer Io tendenzialmente tendo a farle tutte le domande Inizio tutto Oggi mi andate a fare guardie di gruppo Ho detto a Artpovermanu Ho detto che non posso farle Non posso decidere io di fare guardie di gruppo Devi per forza chiedere a Ninjo o ad Ade Grazie per il follow All'ora e 4, 3, 1, 8 Benvenuto Se becchi me ti Se becchi me ti chiedo tutte le capitali d'impero E niente E becchi me ti mandate solo di quello Eh lo so però Capisci che io per esempio come staffer chiedo tutto io Anche altre cose A me non becchi Beccherete mai la data UL Ma come Ah la taggine è arrivata La sfrae Vediamo un po' Zero esperienza da P Mutulo live perché ho paura La spostiamo Ciao Ciao Mi senti? Sì ti sento Guarda vedo che hai zero esperienza da P2 Giusto? Vedo che hai zero esperienza da P2 Eh guarda purtroppo Per chi ha zero esperienza da P2 Deve fare esperienza Agli almeno un mese Quindi torna tra un mese E rifarla con altri scritti su impero Nel frattempo fai esperienza su server No whitelist E poi torni qui ok? Sì devi provare a entrare in un server Magari in whitelist Ok Ciao Spostiamo sto jam Che è in un'altra di un'ora Jamma Gamma Ciao Gamma Mi senti? Ok Gamma Sono in live È un problema per te? Ok guarda Ti ho rimanato un'ora Perché hai Se hai quittato così Senza dire nulla Senza scrivere nulla Però vabbè Devi compilare Il modulo whitelist Prima di poter fare la whitelist Su impero Ok? Ok No no Il modulo whitelist Non l'hai compilato No non esiste proprio il modulo whitelist Solo l'hai mandato Solo il background l'hai mandato Quindi compila il modulo whitelist E poi torno ok? Ok A posto Ciao Ciao Comunque te lo dico sempre Come va avanti L'espedia Se si sembra meglio Se dobbiamo dire la verità Dani forse Se ti gira ancora un po' più Il full rp Ma dipende Vabbè Ma l'espedia è rovinata mai Perché sono troppi Cioè Sono troppi E purtroppo Il problema è anche Delle l'espedia Che sono troppi Cioè Sono troppi Cosa? Fatti tuo contino? No Gasperi Follo Ender TV Benvenuto E' colpa nostra Dani? La colpa è nostra Dani dello staff? No guarda Non ho idea Di chi è la colpa Però Non ho idea Cosa vogliono da adesso? Vabbè Comunque No Non è colpa di noi staff È colpa È colpa in generale Che il fatto che Fai Vemitalia È cambiato Ragazzi Cioè Fai Vemitalia Purtroppo Ho avuto Questa variazione Che C'è sta cosa Di mentalità Di sparare Di voler sparare Spostiamoci questo Ciao Ciao Guarda Devi compilare Modulo Wildness Background PG Dimmi Ok Se guardi Se guardi Nella stanza URL Steam Ti spiega Come farlo Sì Ok A posto Dopo Ciao Perfetto Rimandato Deve compilare Il modulo Whitelist E Un dpg Ragazzi Tutta gente che non ha compilato sti moduli Li mandato Ce ne sta un altro oggi Di nuovo Qua di nuovo Vediamo chi è No Questo è uno Proprio Vecchio Comunque Sentano Queste persone Perché facciamo andare bene Noi No Dipende Diciamo Comunque Vedete Le white list Le facciamo Le facciamo Ma le facciamo anche bene Il problema è che però purtroppo Sino che FVM Italia Come appena detto è cambiato La gente poi finisce di andare a finire sulla strada Del fatto che si è cambiato FVM Quindi iniziano tutti a fare le solite cose Sparare molto Andare a trajardare sui campi Andare a retardare così Cioè Le guardie di gruppo si sono un po' un danno Però comunque Infine le guardie di gruppo non è che sono tutte un danno Vecchio Dipende Purtroppo FVM è cambiato La gente cerca di andare Stanno andando sempre più verso le orme Dello cambiamento di FVM Vediamo questo qua Deve ampliare il BG Deve ampliare il BG Mamma mia Deve ampliare il BG L'avrà ampliato Chi lo sa Vediamo un po' Background Apriamolo Spostano c'era di qua Ho proprio preciso Mi sposto su qua che manca la parte di in cui si trasferisce Ciao Sono in live È un problema? Ok guarda E manca la parte in cui ti trasferisci su impero La parte finale Nel tuo background Perché non l'hai specificato Il tuo background non l'hai specificato La parte finale Ovvero Quella in cui hai scritto In cui scrivi Quando ti trasferisci su impero Cosa vuoi fare su impero Ah ok Quindi spiegare Devi spiegare Devi spiegare La fase di vita in cui tu ti trasferisci su impero E che obiettivi vuoi porti su impero Nella nuova città Ok? Cosa vuoi fare Tutto Eh ma posso scegliere il ruolo che voglio fare Certo tu scegli quello che vuoi fare È un gioco Quindi ovviamente tu puoi scegli tu cosa lavorare qua nel server Cosa vuoi fare nel server Però tu devi scrivere cosa vuoi fare nella nuova città Ok? E quando trasferisci Cioè devi spiegare La fase di trasferimento E cosa vuoi fare nel server Nella città Ok? Ok grazie Perfetto Ciao Ciao Totto io non mi trasferisco Perché non so cosa fare Vuoi farmare come un drago Eh ma non si può farmare Adesso impero Non c'è il sistema di farming C'è ma non c'è Ficca altro L'unico che salva è l'America Sì L'America purtroppo A server sì Salve è veramente molto bello L'RP Io pagherei oro Per conoscere l'inglese molto bene Per poter andare a giocare su Su NoPixel Ragazzi Cioè NoPixel gioca Giusto per giocarci Qualche volta Perché comunque Impero mi piace come server Per me sono staffer di Impero A me piace Però NoPixel È un bel server Si fa l'RP Che manca Purtroppo in Italia non c'è Purtroppo in tutta Italia Non c'è Non solo su Impero C'è l'RP che manca Sposto questo che è un background corto Ciao Valerio Ciao Guarda il tuo background è ancora corto C'è 1800 caratteri Deve essere di 2000 caratteri almeno 2000 Esatto ok Mi scusi Ah niente Ciao Ciao Si sono estinte le mucche No ci stanno ancora le mucche A fare a Sandy Shores Anche Ci stanno anche Per esempio Ci stanno anche A caccia Puoi andare a gira A cacciare I conigli I cervi Gli animali E puoi andare a fare la legna Puoi andare a fare le pietre In maniera Puoi andare in giro Con il flugoncino Della game hosting A fare Le riparazioni Ok Oh my god Che sotto sta gente Oh mio dio Oh mamma mia Oh mamma mia Guarda di gruppo sicuro Ma è una frazione intera Sì raga ma noi non possiamo fare guarda di gruppo Se non sono autorizzate Quindi mi dispiace Eh ma c'è un casino Perché in un attimo chi l'ha fatta Tutto No niente pescatori Comunque totò Grazie per il follow Francesco benvenuto Grazie per la visione Oh Prendiamo qua un po' di follower da dire Un attimo Grazie per il follow a XM XM Sesina E anche a Jamma 56 off Grazie per il follow Ho visto sono andati tutti come una raffica Sì lo so ma io non possiamo farli C'è fai se sono spostati loro due Perché io non posso quanti sta Cioè non possiamo adesso Cioè più che altro Io non le sposto perché sono in live È fastidio 40 persone Però Questa guarda di questi gruppi Mi sa che non è convalidata Krix1 Grazie per il follow Benvenuto Eh ma muto un attimo la live E ripeto subito E ripeto subito Ok Ok rieccomi scusate Abbiamo avuto un attimo piccolo Cosa da fare Ciao Krix Buongiorno Ciao bello mio Oh my Mike Io credo di che fanno Vole di gruppo Ma mi dissero che non le facevano più Infatti adesso non le fanno più Mi sa perché Infatti gli dicono Di andarsene via Tra poco A me l'ha fatta Cipre la well Ah Cipre Eh sì Se l'ho andato via da un po' Ormai Cipre Comunque C'è farla White ist a solo A parere mio E meglio comunque C'è perché Il momento in cui tu la fai da solo Ok Sentivi un po' Dei provvedimenti Di prendono più leggeri Se sei in una white isti gruppo I provvedimenti Li prendono più pesanti Perché essendo una white isti gruppo Appunto Sei più Mal visto Rimandato Di correggere il proprio background È difficile di entrare a stafferso impero Diciamo A me Strong la well Ah Tavata Strong A te Diciamo che non è facile Comunque un grande server Molto importante Lo staff Deve essere comunque Persone scelte bene Quindi Non è né troppo facile Né troppo difficile Ragazzi Siciliano Pari stanchezza Pari stanchezza 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 49 No Non veniamo pagati Gamma Siamo persone volontarie Che vogliono aiutare il server Ad andare avanti Bon Ci spostiamo Ciliano Buongiorno Ciao Vedo che Stai rimandato Ah Sei tu Quello lì Prima Bene Bene Ho visto che Stai rimandato Per background Per regolamento Ok Come ho detto È live Io chiedo tutto Quindi Ti richiederò tutto Regolamento Aspetta Bene Allora Iniziamo a fare Qualche domanda Definizione di RDM e VDM RDM È Quando Uccidi Una persona Senza un voleto Motivo di RP E VDM Quando investi In una persona Senza un voleto Motivo di RP Definizione di Metagame Metagame Sarebbe Prendere Informazione All'interno Dal gioco Eh Prendere Informazione All'fuori Dal gioco E Utilizzarle Il gioco Sì Mi fai 5 esempi Di metagame In quei esempi Di metagame Sì E Per esempio Io Tu sei live Ok Io ti vengo Per esempio Lì Prendere Ovviamente Il gioco Informazioni Vengo lì Ti surbo Legion Metagame E Poi Hai detto 5 esempi Di metagame No Per esempio Solo Poi Per esempio Qualcuno Mi scrive Su Discord E mi dice Guarda Questo è Un palizzo Benvenuto E io In Rappi Non lo posso sapere Perché serve Metagame Poi Metagame Riconoscere Una persona Tramite La voce O la maschera Ok E poi Metagame Metagame Come pensa Metagame Sì Lo ho detto Tutto Ma Sì 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 Ma Non me ne vengono Più O meno Tutte Quello Che mi erano In testa Vabbè Mi mancano Un po' Però Vabbè Andiamo avanti Definizione Di power game Power game Sono Le Azioni Che abusano Della meccanica Di gioco Ehm Degli esempi Ripeti Ripeti Scuola Power game Sono le azioni Che abusano Della meccanica Di gioco Ok Per comparazioni Realistiche O surreali Sì Sia Conosciamo Lo conosciamo Lo conosco bene Agente 018 Vi preoccupate Ehm Dammi Cinque esempi Di power game Cinque esempi Di power game Ehm Cinque esempi Di power game Borsone Per esempio 10 e 10 Ehm Prendere una persona In braccio E mettere Corri come un pazzo Ehm Salire Con una ferra E su una montagna Ehm E camminare Con le ruote Bucate Ok Sono quattro Grazie Benvenuto Oh calmi In chat Ragazzi Calmi Calmi Manca l'ultimo Manca Cinque manette No Quattro manette Enrico Tu Manette Cinque Da dire Scusami Manette qua E sono cinque Da dire E portare Un 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 Vucile Pesante Senza un borsone La mia voce Sembra di averla già vista Mmm Boh Non so dove Chi lo sa Ragazzi State calmi Chat Ok Definizione Divino fear Definizione No fear Eh no fear È quando Non simuli La vera Paura Del tipo Eh Ti punta una pistola E non Non hai paura Mmm Vabbè L'ha mancata La sequenza Della paura Degli esempi Te posso fare Degli esempi Non simuli La paura Hai detto Giusto La simulazione Della paura Sì Ok Mi fai Quando non Simuli Mi fai Degli Cinque esempi Di una fiera Sì Eh Quando ti punta La pistola Nella paura Eh Quando Per esempio Cammini Sopra un palazzo Alto Poi Ehm Ed è uno Progetto No Due te l'ho detto La pistola E il palazzo No Due Poi Power game No Perché power game No fear Esatto No fear Andiamo avanti Ehm Definizione Di fail rp Fail rp Ehm I cose Come si chiamano Ehm Sono azioni Che Nella Diciamo Nella vita reale Non vai Mmm In che senso Picchiare qualcuno A caso Senza motivo Parlare Una volta Cioè ok La definizione di fail rp Non è completamente Corretta Eh Cioè Secondo te Fail rp Spiega meglio Spiegati meglio Per cui Ti voglio dire Che significa Sono Per esempio Delle azioni Che in vita reale Non fai Per esempio Io almeno In vita reale Non vado a picchiare A uno a caso O puntare una pistola A uno senza motivo Mi capisci Ehm Sì Dici cosa Stiamo guardando Una whitelist Una Faccio della whitelist Di un server rp Sì Costa Ok Quindi sì Ah Fede rp Comunque sì Vabbè Sarebbe Compia delle azioni Che non faresti Vita reale Infragendo Quindi il regolamento Mi fai cinque esempi Di fede rp Vabbè Così la domanda Riscatta Da bobo 98 ita L'avevamo fatta Ok Parla da morto Bicchiare a caso qualcuno Puntare una pistola A testa a qualcuno Bicchiare a caso qualcuno Sta nell'RDM Che comunque Ne farà sì Un regolamento L'RDM è quando uccidi Una persona Senza voluto motivo Vabbè sì Comunque Picchiare a caso qualcuno Un fail rp Potrebbe essere Però Vabbè dai Andiamo avanti Andiamo avanti Vai Continua pure Ti ho detto Parla da morto Bicchiare a uno a caso Ok Poi 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 con l'RDM Se for mai tanta gente Può smettere di seguirmi Quando li dimando In whiterist Perché tipo Lui sta seguendo Secondo me La puntata Un buon Se ne va Mi mando una Una persona Almeno Per il mio Da quanto mi odiano Che praticamente La prendi Alla butti Giù dal ponte Perché La vederla un momento Non lo fai Vabbè Se sei un assassino Lo fai però Trovo un assassino In real Beh Ce ne sono troppi Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti L'azione Ferrum Sì Spiegami L'azione Ferrum Che cos'è Quando Perciò Perciò Non se ne fallo Un gioco Ero il venuto Comunque ragazzi Ricordo che con i punti canale Potete Ricordo che con i punti canale Potete riscattare La cosa di Farmi la domanda E quindi voi Scattando 300 punti Scattate la domanda La fare in whiterist Alla persona Che sto whiteristando Quindi io Li farò sicuramente La domanda Che mi suggerirete Se si possa allontanare 300 metri Mi raccomando E quindi Potete votare Stai con i punti canale E se passerà Non passerà Una whiterist Ragazza Sono andata quindi Allora Sono 14 poliziotti E 10 criminali Giusto? In un'azione illegale In un'azione in Ferrum Ho detto Spiegami L'azione in Ferrum Grazie a te Follow TV Phoenix Benvenuto Sì Me la stavi spiegando bene Massimo 14 criminali E Massimo 14 poliziotti 15 criminali Non vi hai detto È giusto Ok Si può usare il casco In un'azione di Ferrum No Ok E Qual è il raggio di azione In un'azione di Ferrum Qual è il raggio di disingaggio Per un'azione di Ferrum 300 metri No Sper 300 metri Sì Perché 800 metri Dico 400 metri Quanti metri 300 metri 300 metri Eh E Dario Per una guardia di gruppo Con quelli Dove Il mio timore Sì Deve organizzarti con Ninjo Su Gar FC E Che tipo di azioni sono Le azioni Ferrum Ho visto che tipo di azioni sono Sì Che tipo di azioni sono Sparatore Ok ma dove Una piena negozietto No Anche quindi No Allora Speriamo Quali sono A Cine Ferrum Sono quando Parte una sparatoria In mezzo alla strada Una rapina Un'altra cosa Perché ci possono essere Sì Un'altra La zetta Tutti criminali Rapina Quale item Puoi ruotare in azione Tutti puoi ruotarli Beh La strada Sì Sempre Tutti Tutti criminali Però è una diversa cosa Cioè Puoi rubare Tutti Cioè Puoi rubare tutto Armi Bende Fino a quanto Puoi tenertene Cioè Il cibo E l'acqua Puoi restire anche Penderla Però sempre restire Un po' morto Di fame Lo so Però comunque Se mi risponde Tutti È giusto Ok Spiegati un attimo Meglio Che non lo stavo sentendo Stavo dicendo Le rapine Sono Le rapine Nel senso che Per esempio Ok ma io Ho chiesto L'azione In free room Che tipologie Di azioni Sono Azioni In mezzo Alla strada O negati Che ne sono Durante L'azione Ok Ok Azioni Per strada Giusto Quindi Sono tutte Quelle azioni Sono Te lo spiego Io meglio Sono tutte Le azioni Sono tutte Le azioni Legali Che avvengono Nel server Tranne Entra nei punti Droga O alle rapine Ok Mi raccomando Che tipi di item Si possono Lutare Durante L'azione Al che è criminale O ai polizi In generale Che tipi di item Si possono Lutare Durante L'azione Item Serebbero Che sarebbero Le armi Item Sono le cose Che Nell'inventaria Ah Cosa non vuoi Lavare Cosa puoi Lavare Cosa puoi Rubare Durante L'azione Cosa puoi Lutare Durante L'azione Tutto Tranne Cose Personali Del tipo Documenti Parte Credito Cibo Forse No Durante L'azione Non si può Lutare I corpi Punto Durante L'azione Sì No Durante L'azione Non si può Lutare Non si può Lutare E ti ho chiesto Infatti Durante L'azione Cosa si può Lutare Tu mi hai detto Delle cose Durante L'azione Non si può Lutare Mi raccomando Ma le 5 persone Dici che ce la fanno Fare di gruppo Non lo so Sugar Sugar Non lo so Non penso Però non lo so E andiamo avanti Sì Mi sono Mettete tutta La rapenda Mi posso Fare R più Surreal Ma che La merda L'elicottero Si può Usare In azione Feroma No E un poliziotto Rapina Può Usare L'elicottero Rapina Sì No Non si può Usare L'elicottero In rapina In rapina No Non si può E Le zone rosse Quali sono Le zone rosse Sono la marijuana Ma che zone sono Spiegami prima Inizio di cosa Che zone sono Le zone rosse Eh Le droghe I punti di raccolta E processo Delle droghe La droga Sì Quali Quali sono Quali droghe La marijuana I cristalli La cocaina L'oppio O mi sbaglio Anche la marijuana Popolare E il crack Siciliano Non ci siamo Purtroppo Ti devo rimandare Quando Che devo Io Quindi Purtroppo Ti devo rimandare E La white Isone Passata Tra 24 ore Vabbè Ok Ok Buona giornata Ciao Ciao E niente Regà Ce l'ha fatta Oh mamma Quanta gente Deve ampliare il background E compilare il modulo white Ciao 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 sono live Hai un problema Ok guarda E devi compilare il modulo white Lista ancora che non hai fatto E devi ampliare il background Ok No no Aspè Cos'è il background l'ho fatto E ma devi ampliarlo Ah ok Devo ampliarlo Sì E devi compilare il modulo white Lista Va bene dai A dopo Ciao Poi Vediamo un po' Barack Obama Abbiamo qua Un po' mi dispiace Eh Regà Spike Buongiorno Barack Obama È stato rimandato Per Sistemare il background Ieri Sistemare il background Però È corto L'ho sposto Ciao Barack Obama Mi senti? Ciao sono in live Un problema? Sono in live Un problema? Ok Guarda Caro Più di fare la white Ti devi ampliarmi Il background Perché è ancora troppo corto Deve essere almeno Più lungo I 2000 caratteri Ok? E come faccio A vederli in E boh Te li metti Se cerchi su internet Contacaratteri.it Ti conta i caratteri Ok? Ah ok Ma comunque È già buono Così basta che aggiungo Cos'altro Per controllarle Però controlliamo Una volta che hai finito Perché potessi modificare cose Quindi per ora Attendo che lo finisci Per controllarli Ok? Ah ok Va bene Va bene Posto Ciao Ok Tutto bene Rilaspai Tu tutto bene? Ui Acrelia Ciao Buongiorno Comunque ragazzi Ricordo di fare Punto schermativo Comandi Per vedere tutti i comandi Punto schermativo Yt Per vedere tutti i comandi Tutto bene Tutto bene Acrelia Tu tutto bene? Ciao Fonix TV Fonix Buongiorno Tutto posto Dai mi sta sordiando Tutto per entrare in polizia Bene Rilaspai Bene Bene Grazie per il follow A datim7104 Benvenuto sul canale Ale Cristini Ciao Buongiorno Il metico totò È sempre qua Barappa martellone Ma noia Grazie per il follow Anche a Ale Cristini Grazie Benvenuta Benvenuto Eh TV Fonix Vanno tutto bene Le white È tutto bene Ho andato due settimane Per fare esperienze Rappi Siete l'otto Siete l'otto Uno Due settimane Sono passate Ha compilato Il modulo white Sì è tutto C'è 15 anni Non ha compilato Il modulo Il background Mutulo live Per sicurezza Spostiamolo Ciao Ciao Sono in live Ha un problema? Ok 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 guarda Devi compilare Il background Se vuoi fare La white Lista Background Esatto Non l'hai ancora Compilato Eh no Devi farlo In background PG Quindi Sistema tutto E torna Ok A posto E Oh Devi spostare Alcuno Ok A dopo Allora Ciao Come vanno le white Sto bene Quanti rimandati Oggi Oggi Vediamo subito Dani Oggi Durante Oggi 19 rimandati Acrelia Appena torno Le vacanze Le quelle Su impero Instant Bene Bene Ottimo Buona fortuna Allora Well Luke Bella Tente Ciao Una strage Sì una strage Una strage Già Criti tv Vediamo un po' Questo Non ha mai fatto La whitelist Non ha mai fatto La whitelist E da rimandare Boh Il modulo L'ha compilato Veramente Da schifo Perché non esiste Neanche Comunque Vediamo un po' Gli altri Brother.alex Compilare il background Che è il modulo White Per effettuare La whitelist Bene Vediamo un po' Se l'ha compilato Abbastanza lunghi Cortissimo Lo sposto Lo spostiamo Ciao Brother Alex Sono in live Un problema Ok Guarda Carlo Devi fare la whitelist Impero Devi ampliarmi Il background Ok Deve essere almeno Più lungo Di 2000 caratteri 2000 caratteri Esatto Quindi Posso modificarlo Devo rifarlo da capo Modificarlo O rimandarlo da capo Ok Ok Perfetto Grazie A posto Ciao dopo Ciao No ragazzi Che strage Oh Non c'è nessuno Che fa un background Più lungo 2000 caratteri 12 ore 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 28 Può venire questo Devo spostare Ciao 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 Sono in live Un problema Ah guarda Carlo Sei in anticipo di una decina di minuti Quindi Torna alle 16 e 30 18 e 30 Torna Ok Sei arrivato a 6 ore alle 12 Quindi alle 12 18 e 30 Scade Ok Non ho capito Quindi Sei in anticipo di 10 minuti Esatto Le 18 e 30 Puoi ricollegarti Ok 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 Va bene Sarei te che mi farei la White list Qualcuno che ti sposterà Ok Ok Ciao 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 Twisted Ok Dopo facciamo lui Lui invece Non lo sappiamo Lo vediamo un po' Mmm Sono stato twisted Sì un attimo Solo Mi muto Vado un attimo A prenderla bene E in vostro punto Sì un attimo Sì un attimo Ok No alle Cristini Da un anno Un anno Un anno intero Che sono su impero E ora sono Sono da un anno intero Sì un anno Un anno intero Grazie per il follo THU THU HB Grazie per il follo Benvenuto Tutto bene Sto volendo di caldo Ah Sto volendo di caldo E niente È difficile Non è difficile E neanche facile Non vedo l'ora che Arrivare l'autunno Ma come no Io adoro l'estate Uè ericchi Hai visto che sei ancora Primo con i bit Sei ancora primo Con i bit Tra Nel mese L'ha comandato Cof 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 Ma come l'ha comandato In che senso Cosa Comunque Spostiamoci Questo nuovo Ciao Buonasera Eh Ok Guarda Per fare Avviso impero Devi compilare Modulo Whitelist E background PG Prima Ok Quindi ci vediamo Tra poco Ciao Lo spostiamo Qui Ecco qua Perfetto A posto Rimandato Deve Compilare Il Own E Ulo Perfetto Allora Non è ne facile Difficile Cioè Devi chiedere Se ti accetta Un attivatore in prova Qualche giorno Da player normale Poi Entri nello staff Stai in staff Eri in prova Per un periodo X E quando ti meriti Di diventare Helper E quindi Entrare ufficialmente Nello staff E vieni promosso Ad helper E quindi Sei ufficialmente Nello staff Hai poteri In game Sul db Comunque ragazzi Dai porza Con sti follow Che siamo A 20 su 45 Dai 20 follower Su 45 Per arrivare A 1000 Ok Ragazzi Grazie Grazie Per il follow Steph Toxic Benvenuto Ci sta Molto bello Grande responsabilità Eh sì Già Molta responsabilità Soprattutto Molta responsabilità Quando avete Banti della polizia Eh Li riappiamo Tra po' Adesso Vediamo Comunque Comunque Non so Se hai visto Come ha detto Ricky Che sei ancora Primo Tra i Tra i beat Donati Quindi Detiene ancora Lo stemma Del primo Beat leader Buonasera Buon uomo Buonasera Fancazzista Buonasera Oh Smith Oh Jova Buongiorno L'MWL Durata 43 Minuti Ariel Messina Mi ha fatto Stancare E niente Valerio Cazzo Per il Follow Benvenuto Valerio Che sarebbe Questo qua De duco Genesis Oh cazzo Ci sono rubato Il vero Twisted Vorrei spostarmelo Prima Dimmi un'altra Deve fornire Esempi Metagame Per leggere Volentro L'impero Ah Facciamo lui Dai l'ultimo Vediamo un po' Oddio Non riesco a spostarlo Ciao 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 Sono in live Il problema Facciamo una White list In live Ok mi raccomando Utilizzare Le parole Consolente Alle politiche In twitch Mi raccomando Sì Vabbè Ti ero stanco Ti ero stanco Ti ero stanco Tutto a posto Parli tutto Basso Così a voce Sì Un po' scarico Un po' scarico Un po' scarico Ricarica 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 Di che c'era White Di stafano Ok Ragazzi Ripollo Ad Anton Poon Stv Benvenuto Ma non funziona Per avere Vecchie Ottenegate Ah Bisogna Mandarle Apri un ticket Dade Mandare Le foto Di tutte le auto Tutte le passaggi Fatti Ti danno Ti ghiberano L'auto E i soldi Comunque Complimenti Alla Cristini Che si è passata Perfetto Perfetto Allora Iniziamo Parliamo un po' Al tuo background Cosa vuoi fare Nel server Aspetta un attimo Che me lo apro Anch'io Ok A posto Quanti anni hai Tu? 16 16 anni Allora Mimmo Camorra Che è il mio personaggio Nasce in Sicilia Suo padre È una persona Diciamo Che ha a che fare Con la mafia Quindi sin da piccolo È abituato Diciamo così A A non Come dire A portare sempre Rispetto In alcune situazioni Quindi Fin da piccolo Cresce un po' Con la mentalità Del portare rispetto E tutto Era Un bambino Molto riservato Giocava per il più Anche da solo Poi All'età Di 11 anni Si inizia a Sospettire Diciamo Riguardo Gli affari Del padre Dei guadagni Così alti anche E niente Una Una sera Quando Tutti dormono Va nel Ufficio del padre Diciamo che Cerca Delle informazioni E trova Una cartina Dove era Pianificato Un vero Un attentato Ciao A Cregia Ciao Grazie per essere passata Lui se lo conserva Lo penso Lo conserva L'ultima Che vuoi fare Nel server Vorrei Provare Come poliziotto Poi Vediamo Come si evolve La situazione In rp Però Diciamo Come cosa Principale Vorrei provare Quello Ok Bene Iniziamo La finizione Di rdm E udm Rdm Random deathmatch Che uccidi O porti al ferimento grave Qualcuno Senza un valido motivo E vdm Stessa cosa Però con l'auto Definizione Di metagame Quando usi Le informazioni Quando vieni Cioè Quando hai delle informazioni Che non hai scoperto In game Tipo per esempio Sei atterrato E senti Potessi Che voglia Indagare Su padre Non le potessi sapere No Non c'era A fare Con l'ivisione Ragazzi Mi Mi fai Gli esempi Di metagame Cinque esempi Sì Allora Il primo Appunto Quello Che ti ho detto Ripetilo Magari Da Ripetilo Ripetilo Ah Che cazzo Dovado Ah Da atterrato Quando sei Atterrato Magari senti Alcune cose Che non dovresti sapere Perché eri atterrato Svenuto in quel momento Quindi non l'hai scoperto In game Da Cioè Non eri Senziente Poi Magari Anche tramite La classica live O tramite discord O per esempio Se L'altro giorno Ho visto una stream Tipo Ti levano le batterie Dalla radio O dal telefono Ovviamente Non te le possono levare Perché questa cosa Che io sappia Nel server Non c'è Continui a sentire Le cose nella radio E Continui a Ad usare Quelle informazioni Definizione di Definizione di Power game Quando sfrutti Ciao Matteo Tutto bene Per Far avvenire Situazioni Che non sono Fattibili Nello italiano Mi fai 5 esempi Di power game Sì Tipo Per esempio Ti sparano Su un piede E Ti metti a correre Subito dopo Cioè Non è fattibile Ok Poi Poi Magari Nuotare Senza ruotare La fatica O Poi Anche Bagnoppare Per andare più veloce Tenere più cibo Di quello consentito O Magari anche Correre Con un corpo In spalla Ok Definizione di Neofiera Quando non Ruoli Il sentimento Di paura Nel In NRP Mi fai 5 esempi Di nofiera Sì Tipo Allora Entrare In zone Magari Pericolose Tra virgolette Come per esempio I ghetti Cioè Nella vita reale Non lo faresti Senza avere Un minimo Di paura Magari Manche Può essere Nofiera Correre In autostrada In contromano In mezzo alla strada Oscar Buongiorno Grazie per il follow Non so Guarda che si rivede Ebbene Magari fare Un po' Il gradasso Davanti a delle persone Importanti Tipo Le febbi Le febbi Che ti interroga O persone Della mafia Va bene Va bene Mi fai due esempi Di nofiera In cui ti trovi Da solo Completamente Senza nessun altro Personaggio Sì Ci stanno Però se vuoi sentire Ho visto Che c'è Se non sbaglio Una casa infestata Nel vostro Server Quindi magari lì Non so Bene cosa sia Però l'ho vista Tramite qualche live Anche Che c'è tipo Una casa Dove Ogni tanto Ci sono dei jumpscare No Oscar Ci mancherebbe Non faccio vedere Discord Non faccio vedere Solo se Ti guardi un po' addosso No ripeti Un altro esempio Non mi piace Da solo Quella cosa A casa No no Fai un altro esempio Più semplice Da solo Bah Niente parole Da solo Non saprei La casa Infestata Te l'ho detta Non ti piace Ehm Boh Per esempio Se troviamo in cima Un palazzo Non hai paura di cadere In cima Un montagna Non hai paura di cadere Che se che attraversi L'autostrada Senza avere paura Ah beh Quello l'avevo detto Proprio Eh sì Ma l'avevi già detto Prima Ci poteva arrivare La whitelist Torax È in pratica Il provino Che si fa Per entrare Sul server Di impero Ho capito Stare a bordo Nel palazzo Esatto Comunque Sì E che mi si dì Riguardo alle azioni In free room Che Sei considerato Un fuggitivo Dopo i 300 metri Ehm E il massimo Ehm Dieci Per i Criminali Perché se dopo 300 metri Sei considerato Cosa? Fuggitivo Se scappi Dopo i 300 metri Si ingaggi Si disingaggi Sì Sì Scusa Ehm Baby Xanino Cazzo del follow Benvenuto Se Poi Ah la domanda di Bob 10 Criminali E 14 Quanti criminali? 10 Criminali E 14 Poliziotti Ok E che tipi di armi Si usano? Ehm Le 9 Millimetri No Tutte le pistole? Tutte le pistole? Nei caschi Si possono usare? No Caschi no Ma giubbottenti proiettili Ok Ehm Che stai dicendo? No no niente L'elicottero si può usare In azione free room? Nelle free Questo me l'avevano già chiesta Se non mi ricordo male Non credo Nell'elicottero No aspetta Nelle free room si può usare In rapina Un poliziotto Può usare Nell'elicottero? Ehm Quando ci sono delle cose Irrealistiche O forzate Ehm Un esempio può essere Per esempio Un Uscire dall'RP Tipo Non so Parli con una persona In game Ehm Ti metti a parlare Della pasta Che ti sei mangiato a pranzo Per esempio Potrebbe essere Un fail RP Non ho capito Cioè Spiega meglio Inizia la definizione Spiega meglio La definizione Un attimo Quando Ehm Beh Ci sono delle cose Che sono irrealistiche O forzate Ok Ti ho detto Per esempio Siamo più la definizione Di power game Ma comunque Mh Va bene Ehm Diciamo Quando compri Delle azioni Realistiche Forzate Che non potresti Che non faresti In vita reale Quindi Infrangendo Il regolamento Ehm Mi fai Cinque esempi Di fail RP Ehm Mangiare sott'acqua Ok O Per esempio Fai una rapina Non so quanto Sono i guadagni Da voi Comunque Tipo Per esempio Fai un milione E te li porti in tasca Senza avere un borsone Accendi il ventilatore Ok Poi Poi Cosa che non faresti All'Italia Ehm Passare Magari davanti Alle zone Internet A posto Cioè Se tu sai Che non Non c'è La banca Non è che ci va a fare Anche Non è che ci va a fare Un giro attorno Questi non sanno Power game Infatti Ehm Cristiano Tommaso Comunque Guarda Non ci siamo Con questi esempi No Passiamo avanti Dai E Le zone rosse Ehm Sono zone Dove si può Cioè dove si può Ingaggiare a vista Tranne che per i poliziotti Ok In che zone sono? Che punti sono Ehm I zone di raccolta E processo Delle varie droghe Ok La vendita no? No La vendita no Perché può avvenire A quanto ho capito C'è scritto così Può avvenire in qualsiasi luogo Ok Ehm Che tipi di droghe ci stanno Nel server Che? Che tipi di droghe ci stanno Nel server Ehm La coca Ho visto il crack La meth Ehm Poi Crack l'ho detto Sì La Marijuana Forza L'ho detto Quindi quanti sono In tale? Ehm Soprò Allora coca Meth Crack Marijuana Sono 5 Però Marijuana Ce ne sono 2 6 Nel server 5 Pimora E l'oppio Ah Marijuana Ha contato come 1 E l'oppio No Aeto Coca Meth Oppio Crack Marijuana Marijuana Popolare Sono 6 In totale Non avevi detto L'oppio E in quale di questi punti Si possono usare Le armi automatiche? Non ho capito niente In quale di questi punti Di droga si possono usare Le armi automatiche? Armi automatiche? Eh sì Ehm Penso alle più pesanti Tipo la coca No Anche la metanvitamina E l'oppio Comunque Sei tranquillo Che se devo fare un'azione Me la riraggo Queste cose Anche il limite Di persone Però devi saperla Sì lo so Però dico Quali sono le zone arancioni? Siamo anche tanti Quindi magari Anche per sentire Quali sono le arancioni? Dei territori Che sono assegnati Alle mafie Ok E i gruppi criminali Nel server Come vengono Come vengono Diciamo Divisi Nel server Ehm Se non mi ricordo male Mafia Gang E un'altra Che era forse la famiglia No Clan Se io volessi Rapiare una persona La posso rapire Come un elicottero? Ehm No E invece sì Perché rapimento È un'azione di freroom Quindi posso usare L'elicottero In un'azione di freroom Avete detto no prima No no Prima hai detto di sì Che tu hai detto di no Mi sono confuso io allora Ah mi sono confuso io Niente Non c'è stato Ehm Il medico Può compiere azioni illegali? Un? Un medico Può compiere azioni illegali? Ehm No In realtà sì Un medico fuori servizio Può compiere azioni illegali Anche se è un medico Anche se è fuori servizio Può compierle Fuori servizio Certo Eh sì È sempre un medico È però fuori servizio Ehm Che tipo di Può essere armato Diciamo Il medico In servizio In servizio Solo il Taser O lato Può essere armato Per massi Per autodifesa Però Sì Dal Taser Non di arma da fuoco Ok Eh L'area sulla bricoletta Mmm Anche a me Mi sa che non passa Però vediamo Ehm Ok Un dipendente Di un locale Può compiere azioni Legali Ehm Sì Anche il servizio Il servizio Se non sbaglio Sì Però poi Ovviamente ci sono Delle conseguenze Solo fuori servizio Solo fuori servizio Ehm Display Sono trovato Diciamo Senza fare nulla Può darsi che tu Ti abbiano rubato L'account O abbiamo messo Qualcosa di sbagliato Scrivi in privato Da un moderatore In su Per capire Cosa ti è successo Nel tuo account Discord Loris Ok Va bene Sembra di Carlo Conti In realtà Quando qualcuno Sbaglia la risposta Grazie per il follow Comunque Ice FNN Benvenuto sul canale Ice FNN Ehm Dimmi Grazie per il follow A KFPS E a Michele Murgia Benvenuti Entrambi sul canale Grazie per il follow Ehm Sì Quali sono le zone safe Eh Sossa Quali sono le zone safe Ehm Allora Principalmente Tutti I negozi Dove si modifica L'estetica Un po' del personaggio Tipo I tatuaggi Vestiti Le maschere Parrucchiere Ehm Poi L'ospedale La chiesa Ehm E i locali Sono semi Altri zone Semi 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 La La stazione Dell'ordine Mi so Cioè Delle forze Dell'ordine Dell'ordine Cazzuta Ehm E che tipi Di armi Si possono usare Tutte le armi Tutte le armi Complici di caschi Ok Ehm Si possono lutare I poliziotti Ehm No E come si può sparare Dal veicolo Solo In caso Di proprio Nofiare estremo Ehm Che tipi di item Si possono lutare In azione Ehm Solo le armi E i giubbotti No Si può Luttare nulla In azione A fine azione Eh beh Sì scusa Noniant Cioè In azione Io avevo capito Dopo che era finito Eh no In azione Vabbè Se sei in azione Cioè Stai sparando a un tizio Ti metti a lutare Mentre ancora si stanno sparando Mi sembrava Sottentrata Allora Guarda Le one list Per me può finire qui Allora Purtroppo Non so se Parti passare o meno Adesso Questo momento Eh Nì Perché Allora Hai fatto molti errori In cose stupide Tra l'altro Che sapevo Ehm Guarda Ti devo rimandare Ah lo so Me l'ho aspettato Ti rimando Per Qualche ora Adesso deciderò quanto E poi Ti faccio Se poi lo leggerai Adesso tra poco Mando il messaggio Ci penso un attimo su E ti rimando Però devi passare bene Il regolamento Perché Si è fatto a fregare Su delle cavolate Ho sbagliato su cose stupide Anche magari qualcosa Che non ho specificato Già 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 Va bene A dopo allora Più tardi Ciao 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 E niente Un altro rimandato F Mi dispiace Sì Sono sei ore Dai Sei ore Va bene Sei ore Va bene C'è qualcuno C'è qualcuno che ha fatto il furbo E ha buttato tutti i punti Su no All'ultimo momento Perché erano mille Poi dopo un certo punto Guardato Erano quattromila Il furbo Che ha fatto Ha accolto L'occasione Di beccare L'istante In cui dicevo no E stavo interrompendo tutto Vediamo questo Nikon pad Lo spostiamo Ciao Ciao Mi senti Perfetto Rimandato Due ore Per FK In UL E Quit Dalla UL Rimandato Tryhard Sui sondaggi Va bene Bobo Va bene Vieni pure Cal 3 Si stai Dimenticato L'articolo Di impero Su rimandato Bravo Impero Perfetto Gaspo di fuori Salvatore Bomberset Benvenuto Un dovuto Cazzo di follo Questo è l'account Creato oggi Nuovo Ha fatto tutto Dici di fare Repita un anno Mi spiace Torna con l'account Principale Ma l'ho sposto Ciao 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 Quanto ne hai? Si risento Quanto ne hai? Senti? Oh Mi senti? Sì Sì Quanti anni hai? E come è che ho 18 sul modulo? Sul modulo Oggi Comunque Da quant'è che fai RP Da quant'è che fai RP Sì però E guarda caro E guarda caro Il tuo account è stato creato oggi Come mai? Come mai il tuo account discord è stato creato oggi? No raga non mi azzardo smutare Purtroppo devi tornare con quell'altro Quindi contatta l'assistenza di discord e torna con l'account principale Io non posso waitlistarti questo account nuovo Mi dispiace Ok Perché per la prevenzione Per prevenzione non possiamo waitlistare account nuovi di pacca Devi provare a recuperarlo con l'assistenza di discord Scrivi Vedrai che forse aiutano Ok Da qui Eh lo so però Il problema è che devi Togliare la forza a venire con l'account principale Io non posso Mi dispiace Eh no ma è stato creato oggi Di venire con quello vecchio Di venire Già Mi dispiace Purtroppo è così la regola Buona giornata Più tardi Cerca di contattare l'assistenza Cerca di Trovare l'account vecchio Ok Buona giornata Ciao Oh madonna Mi stava laggando discord Mamma mia Aveva 18 anni Sul modulo E diceva di avere 19 Danni con chi devo parlare Puoi sbanare Devi parlare con un admin Evil player Totorex 74 Quindi uno che non ha mai fatto RP poliziani A fare il suo server No Totorex Non può La voce no La voce è normale Però C'era un po' Un problema Con questa Lola De l'età Sono sposto Ciao Senti Pronto Ciao Quanti anni hai Sicuro Guarda caro Hai la voce troppo bianca Mi dispiace Devi tornare magari Quando ti si sviluppa un po' La voce Ok Buona giornata Ciao Niente Ha la voce bianca Sposta la tipa Eriuk Mi parla con un admin Devi scriverli in privato Elvis Evil player Sono buone 350 Di gioco Su Di Dipende da quanto Tempo Fai RP Cioè Se tu fai Poco tempo Non sono Chissà quanto Buone Dipende 1400 Ore Yukita Genesis Non ne ho idea Se mi trovi dopo Comunque Not Genesis Chezza per il follo Non ti ho neanche ringraziato Scusami Sposta Valerio Il admin Su server Dove Ancora gioco Se vuoi No adesso no Ora no Se non è una vera ragazza Forse si Vediamo Ah si Una vera ragazza Comunque Che ore sono Sono le 19 Ragazzi Io stacco Ora Ragazzi Sono le 19 Mi sa che Stacco stacco Proprio Si si Oh Ciao Sei in live Si sono in live Dimmi Posso chiedere una cosa Mi dà un problema Con il db Ma tu ti dà un problema Con il db Sono io l'unico Che va Si Allora Aggiungimela te In caso La whitelist Si Vediamo un attimo Se mi funziona Vai vai Sì va Ti passo il discorso di tutto Almeno Ci metti In privato E aggiungo Vai Ti do tutto Si Ti ringrazio In caso Ok Questo è il disco Tutto A posto Allora Hai giunto Hai messo Il whitelist Aggiungere Si si Già messa Hai messo il visto Perfetto Vai A posto Se non ti va Scendi giù E dimmi Grazie mille Oggi l'è fatta Perfetto Whel Fatta Da Gabri Va bene Perfetto Ah no Non va Aspetta Forse c'è già Per questo forse Non va Come c'è già Eh si C'è già Eh si Eh si Come c'è già Ecco perché Ma non io Non gliel'ho messo Guarda di gruppo By Strong E l'undici Dell'otto Esiste già Che vuol dire Esiste già Si chiamava Boosted Si chiamava E lo stime che mi è passato Dice già Perché lo dà Quell'errore Ah magari ho sbagliato Ma mi sembra strano Contorna bene L'ex Perché mi sa che l'ex O me l'è passato sbagliato Perché c'è già Ho fatto copia e colla Ragazzi basta Whitelist Adesso Comunque ci penso io Vai io scendo sotto A posto Buona live Ciao ciao No ragazzi Adesso concludo qui la live Perché comunque sono E anche Sono anche un po' stanchino Cioè Sapiatolo Cioè Adesso basta Quindi Come al solito Vi lascio a fare Andare a vedere Un po' di RP Quindi Vi lascio dal Corrotto di mezzogiorno Quindi Ah lei mi ha spammato Comunque vi lascio Da mezzogiorno Ragazzi Vi lascio da mezzogiorno Quindi mi raccomando Io vi Osto da mezzogiorno Vi lascio andare da mezzogiorno Voglio che tutti quanti Andate a scrivere qua Ci manda Dani No Andate a scrivere tutti Eh aiuto Che è? Addio Ti avevo moderato il botto Intanto mod era così Federico Rossi Grazie per il follow Andate a scrivere tutti Che cosa scriviamo ragazzi Da mezzogiorno Che lui Diciamo Sei un corrotto Così Scriviamo così No Un saluto da Dani No Diciamo No Sei un corrotto Sei un corrotto Tu ti devi spammare Sei un corrotto Ok Ivan 2001 Grazie per il follow Mi raccomando Tu ti devi spammare Sei un corrotto Da mezzogiorno Sei un corrotto Pronti? Oppure Scrivete Ci manda Dani Virgola Sei un corrotto Ci manda Dani Virgola sei un corrotto Ok Così ok Pronti? Ragazzi Io vi ringrazio tanto Per essere con me Ci vediamo tutti domani Forse con un'altra live Vi gassi di follow Jojo mod E mi raccomando Ci manda Dani Sei un corrotto Pronti? 3, 2, 1 A dopo Ciao Ciao